Ciao a tutti Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio primo video su questo nuovo canale youtube Allora, sembra che devo andare a un matrimonio, ma non è così veramente Questo video è fatto apposta per presentarmi Allora, ciao a tutti, sono Emanuele, ho 13 anni e abito in Piemonte Ho la passione di videogiochi come moltissimi altri youtuber o persone che ci sono su youtube Io non mi considero uno youtuber, però vabbè E quindi ragazzi io spe... E niente ragazzi, questo canale parlerà solo, esclusivamente di gameplay A parte magari qualche volta qualche reazione a dei video speciali, cioè ma speciali è un'altra cosa Ragazzi domani ci sarà un video gameplay, però non sarà montato tantissimo Cioè saranno tolte le parti più noiose, ma non tagliato tantissimo Quindi magari i miei videogameplay saranno i 15 minuti, 10 minuti, eccetera Se volete qualcosa di più tagliato, mi raccomando condividete il video E niente, ci vediamo alla prossima, ciao